Lotto numero 45, signori abbiamo un'opera di là molto bella, molto piena, molto colorata, bisogna offrirne 26, 27, 28 torna al banco, bisogna dire 29, bisogna dire 29 al numero 1, 30 torna al banco, quindi al tuo cliente Federica, siamo a 30.000 euro per il banco, 31.000 è l'offerta successiva, 31.000 al numero 1, bisogna dire 32, 31.000 al numero 1 con Dario, bisogna dire 32, 32 sempre al numero 1, bisogna fare 33, 33, bisogna fare 34, 33.000 euro al numero 1, bisogna fare 34, signori, 33.000 per la prima, 34 al numero 1, bisogna fare 35.000 per la prima, 35.000 per la seconda e 35.000 euro, paletta numero 1, aggiudicato, complimenti. 34.000 euro, paletta numero 45.000 Grazie.